musica 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 cosa perché quando faccio video di fortnite comunque siamo su fortnite quarto episodio il terzo il quarto quarto facciamo una partita nooo è Thor quasi io ho 200 no, sono su carta forbice potrei comprarlo ma non lo faccio eh ho avuto pietà che figo il mio personaggio proprio io non qua ora mi paghi perché ti ho fatto un balletto e l'altro? ah è solo come sempre quando si butta mi butto anche io d'altronde ah lì la ok lì andiamo quindi allora andiamo lì prendiamo qualcosa e spacchiamo il culo agli altri aspetta 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 aspettami eh quanta gente allora io ti seguo no no picchialo mi abbiamo messo paura mi abbiamo messo paura io sono dei colpi cosa mi servirebbe un'arma o una granata ah vabbè io ho paura io ho paura sento dei bomba no 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 ma no quanto sono no eeeh ok e e e e e e mi potresti aiutare si l'ho eliminato io ok quello lì muori muori tu no non l'ho curato dai no non mi segnerà mai l'eliminazione io ho buttato a terra ho fatto una roba che ti prego amico aiutami sto passeggendo da un'ora no no adesso come scavalco amico non capisci che amico uccidi quella persona brutta che mi ha tolto un'eliminazione amico amico ah ok ho fatto una roba grandissima un minuto ne ho uccisi uno però ne ho buttato a terra due però peccato che quello lì ne ha curato uno giro della morte e grande fa hanno super aggiornato dei valli ah dai suona dai suona ma sfortuna che se prendo i materiali all'inizio poi mica uno li lascio per dopo oppure le fuggili però c'ho non no resto zitto e e gioco e faccio prima ah lì ok va bene va bene subito così ma se hai detto di andare lì come facciamo adesso vabbè ah cambio di programma quindi ah no invece vabbè io seguo oddio perché quello c'ha l'ombrello non è aggiornato ma che no no qui c'è gente dove è che è il mio amico ecco ti amico amici cioè aiuto aiuto hai un'arma bravo e forte ah ho preso un'arma sono sei fiero capo aiuto sento dei passi ho preso qualcosa eeeh quanto fa ah noi stiamo qui a guardare no io sta skin la odio quella che è il mio alleato comunque la mia è fighissima alleato bene a casissimo muori muori muorica eh li ho già preso io ho sentito qualcosa di bello questo qua è figo è un figo ma dai tutti giù siete va bene io non ho lo scudo no questo non mi serve a niente ho la doppia pistola e cosa facciamo andiamo facciamo un valdoria e distruggiamo roba si si non paghiamo noi no siete usciti avvisare magari cosa hai visto ok ah no tu sei alleato minchia eeeh ciao ciao ho un colpo dell'arma più forte eeeh si si aaaah e va bene va bene va bene eeeh bella partita però ahi non sono affatto ma la luce direi di fare l'ultima partita già 9 minuti sono passati vabbè salvo il mondo marmadiere a doppio quindi ok no adesso ci sono questi che parlo che non ne becco mai uno italiano Oh, ma in realtà no, in realtà già non ho incontrato come vedere il mio fan, però perché questi lottano nella lobby, non ha senso, tanto non fate danno, pronta, pronta, io ero italiano, per io, per me, per tutti, nessuno ti segue, vabbè, seguiamo, mi piace perché si è buttato dopo di uno, come me, e noi, dobbiamo stare in aria, dai buttiamoci, scusa, ma io seguo sto qua, no, questo, no, questo mi porta alla morte, ho già capito, seguo questo, scendiamo, scendiamo, ah, sto qua è andato sopra, Ah, vabbè, 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 ok, questa non vale, ne devo fare una intera, quindi questa parte la taglio, forse, vabbè, ultima, seria metro, seria stavolta, io ho solo 200, ma, io voglio comprare dei balli, ho scelto carta forbice, lo stavo comprando qui, no, ma non lo compro subito, se faccio così, anche se i giocatori, sempre di, sempre meno di, di 100, come prima, tutti hanno balli, più balli dei miei, forse buttiamo i geni, saltate, cioè, quando saltate, vi serve tanto, ah, ok, è lì, lontano, proprio, non d'accordo, qualcuno è già morto, un hamburger, anche tu lo vuoi, no, c'è una cesta, no, dai, eh, che figo, tu c'hai proprio, ma, muori, dai, mi hai lasciato qualche, ma, stai, non mi hai lasciato niente, no, ma sei un cretino, allora, oh, oh, davvero, dove andiamo? a te, tu sei un botto più in alto, no, non sull'albero, adesso ho parato, ah, non mi piace, oh, sento spari, nel mio, cuffio, perché voi non potete, oh, dio, ma dov'era? ma dov'era? no, no, io guardo gli altri no, no, non mi piace, oh, Grazie. Grazie. Grazie.